Ben trovati Ben trovati a questo nostro consueto video editoriale dell'Osservatorio Internazionale Cardinale Van Tuan. Siamo nella imminenza di un importante evento riguardante i temi a noi cari, quelli appunto del cattolicesimo sociale. Perché? Perché sabato 21 settembre e domenica 22 settembre a Bergamo si svolgerà il primo festival distributista italiano. Chi non avesse conoscenza di cosa sia il distributismo si domanderà quale sia il rapporto, il nesso tra appunto questa realtà che magari per molti è ancora sconosciuta, appunto il distributismo, e la dottrina sociale di cui si occupa l'osservatorio. C'è da dire che il legame è strettissimo, anzi direi è genetico, nel senso che il distributismo nasce come un prodotto della dottrina sociale della Chiesa, è una sorta di realizzazione di figlio partorito dalla dottrina sociale della Chiesa. Per capire questo è necessaria una piccola premessa e che poi ci consentirà di entrare meglio nella questione. La premessa è questa, la dottrina sociale della Chiesa, come dice la parola stessa, è una dottrina, cioè è un insegnamento magisteriale della Chiesa, che afferisce all'ambito della teologia morale. Come tutte le dottrine, cioè è una dottrina appunto un insegnamento del magisterio della Chiesa, non ha un carattere immediatamente operativo, cioè cosa intendo dire? Intendo dire che la dottrina sociale della Chiesa non fornisce la ricetta operativa per agire nel campo politico, economico, sociale, ma fornisce i principi, quindi ha un carattere eminentemente teologico, appunto di teologia morale. Ovviamente teologia morale che implica anche una filosofia morale, quindi filosofia morale e teologia morale portate al loro massimo grado di autorità attraverso la parola del magistero, magistero pontificio, magistero vescovile, eccetera. Questa dottrina che appunto attiene ai principi, cioè fissa le coordinate cristiane dell'agire sociale, quindi dell'agire politico, economico, giuridico, eccetera, richiede poi di essere incarnata, diciamo così, nella dimensione concreta del vivere appunto in società degli uomini. Questo sforzo di tradurre i principi della dottrina sociale della Chiesa in una proposta economica, politica, giuridica, eccetera, cioè in qualche modo di ispirare l'azione politica, economica, sociale ai principi della dottrina sociale della Chiesa, ha visto nel corso della storia diversi tentativi, diverse, potremmo dire così, opzioni culturali anche legate alla dimensione locale, cioè al, potremmo dire così, al genio locale. Quindi si può parlare di un cattolicesimo sociale tedesco, si può parlare di un cattolicesimo sociale francese, si può parlare di un cattolicesimo sociale ispanico, si può parlare di un cattolicesimo sociale italiano, eccetera. E relativamente al distributismo si può e si deve parlare di un cattolicesimo sociale inglese. Infatti il distributismo è un prodotto culturale dell'Inghilterra cattolica. Anche qui piccola notazione per inquadrare il distributismo di cui parleremo poi. Dicevamo che i principi della dottrina sociale hanno avuto diverse traduzioni operative, cioè in dei progetti politici, economici e sociali. Il più noto di tutti, certamente, soprattutto per noi italiani, ma non solo per noi italiani, è la proposta politica ed economica del beato Giuseppe Toniolo. Il beato Giuseppe Toniolo è considerato un po' il cattolico sociale per eccellenza, cioè colui che ha formulato a livello sia di pensiero giuridico che di pensiero economico una visione delle cose, dell'economia, della società, del diritto, della politica, eccetera, secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa. Quindi il mio invito è chiaramente quello a conoscere, a studiare le opere di Giuseppe Toniolo. Ma per restare in Italia non vi è stato solo Toniolo, ovviamente, vi sono stati molti giuristi, economisti, sociologi, soprattutto tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, che hanno sviluppato appunto questa traduzione, potremmo dire così, dei principi dottrinari della dottrina sociale della Chiesa. Un nome fra tutti, che a me è caro, è quello di Carlo Francesco D'Agostino. Siamo una generazione dopo quella del Toniolo, anche forse due generazioni dopo. Carlo Francesco D'Agostino è un giurista, un giurista prestigioso, è stato pretore onorario di Roma, è stato un avvocato di chiara fama, insomma una persona, anche autore di molti scritti, di molti saggi, eccetera. E Carlo Francesco D'Agostino lega il suo nome ad una proposta politica ed economica che vuole essere la ripresa dei principi del Toniolo, quindi vuole in qualche modo essere l'erede un po' di Toniolo, e dare concretezza politico-giuridica-economica alla dottrina sociale della Chiesa. Quindi un altro autore che invito a conoscere, a riscoprire, è certamente Carlo Francesco D'Agostino, sul versante economico, la sua proposta più nota è quella del cosiddetto associazionismo aziendale, su cui anch'io ho scritto un libretto. Questo vale per l'Italia, quindi in Italia se io dovessi fare due nomi di intellettuali che hanno cercato di tradurre, di dare una traduzione operativa alla dottrina sociale della Chiesa, certamente farei il nome del beato Giuseppe Toniolo e il nome di Carlo Francesco D'Agostino. Poi dicevamo c'è tutto il filone di lingua tedesca, diciamo il cattolicesimo sociale bavarese, austriaco, eccetera, c'è il cattolicesimo sociale francese, anche esso con una tradizione notevole che risale all'Ottocento, c'è una tradizione ispanica che si lega in modo particolare alla corrente carlista, anche se il carlismo ha una sua origine propria legato a delle questioni dinastiche della corona di Spagna, però nel suo aspetto giuridico-economico sicuramente a partire insomma dalla fine dell'Ottocento diventa espressione in Spagna, nel mondo ispanico, della dottrina sociale della Chiesa. Quindi se qualcuno volesse approfondire sul versante spagnolo, il mio consiglio è quello di andare agli autori cosiddetti carlisti, cioè che si richiamano a quella particolare scuola di pensiero che è appunto il carlismo ispanico. Ma veniamo dunque al distributismo. L'Inghilterra, che purtroppo da cinque secoli ormai è protestante, o meglio oggi non è più neanche protestante, oggi è atea, ma diciamo che da cinque secoli si è separata dalla Chiesa di Roma e ha aderito all'eresia protestante, conserva però al suo interno una vivace minoranza cattolica particolarmente brillante dal punto di vista intellettuale, cioè in Inghilterra, pur essendo i cattolici una piccola minoranza, vi è sempre stata una presenza cattolica intellettualmente protagonista. Pensiamo, non so, a nomi come il cardinale Newman, ma insomma si potrebbero fare tanti nomi appunto, tra cui anche gli amici distributisti che furono Chesterton, noto soprattutto come romanziere, ma Chesterton non è solamente un romanziere, è anche un fine pensatore, è un uomo interessato alle questioni politiche, alle questioni sociali. Abbiamo Belloc, abbiamo il padre dominicano, il filosofo McNabb e abbiamo tanti altri, quindi diciamo c'è una presenza intellettuale cattolica nell'Inghilterra di fine ottocento e primi del novecento che è sorprendente, visto il piccolo numero dei cattolici inglesi. Tra questi cattolici inglesi, a partire proprio dal magistero sociale, quindi a partire dalle encicliche di Leone XIII in modo particolare, ma poi anche le encicliche di San Pio X, di Pio XI, eccetera, si crea un fermento culturale, un fermento intellettuale che porta alla nascita del cosiddetto distributismo, che è la proposta, potremmo dire così, inglese, di traduzione della dottrina sociale della Chiesa. Gli autori tradizionali che vengono considerati un po' all'origine appunto del distributismo sono Chesterton, Belloc e questo padre McNabb, questo filosofo tomista, questo padre dominicano. In cosa consiste in due parole il distributismo? Ovviamente il distributismo non c'entra nulla con l'idea della distribuzione come la intendiamo purtroppo noi oggi nelle società liberal-democratiche, eccetera, cioè non ha nulla a che fare con l'idea che ci sia uno Stato centralista che assorbe attraverso le tasse, diciamo, il reddito dei cittadini e poi lo ridistribuisce. Questa idea è un'idea di tipo social-democratico, che non ha nulla a che vedere con il distributismo. Il distributismo invece, anzi, è proprio all'opposto di questo. Quindi come si deve intendere il concetto appunto di distribuzione propria del distributismo? La si deve intendere su un piano naturale, quindi non su un piano potremmo dire di artificio burocratico, c'è lo Stato centralista che assorbe e poi attraverso le tasse e poi ridistribuisce, ma una distribuzione naturale, incentrata sulla famiglia, quindi il perno dell'economia per il pensiero distributista è la famiglia, quindi la famiglia è la cellula economica, sociale, politica primaria, e a partire dalla famiglia un altro concetto fondamentale del distributismo è la proprietà privata, ecco in che senso si intende la distribuzione, nel senso che la proprietà privata deve essere il più possibile distribuita tra le famiglie, quindi possibilmente tutte le famiglie devono essere proprietarie, quindi una sorta di famiglia che è allo stesso tempo il soggetto della proprietà, quindi la famiglia, ogni famiglia, ovviamente ci saranno anche delle famiglie che non hanno proprietà, però tendenzialmente ogni famiglia dovrebbe essere proprietaria della propria casa e proprietaria dei mezzi di sostentamento, quindi della terra, non so, di un negozio, di un'officina, di un qualcosa, cioè dei mezzi necessari al sostentamento della famiglia. Questo perché? Perché la famiglia deve essere autonoma, cioè tendenzialmente ogni famiglia deve avere da sé i mezzi necessari alla propria vita, quindi deve avere la casa dove abitare e i mezzi economici per sostenersi. Quindi questo ovviamente disegna una società di proprietari, quindi una società dove il concetto fondamentale è quello della famiglia e della proprietà privata, unite assieme, questi due concetti, dove la politica non è intesa nel senso liberal democratico e tantomeno del sistema dei partiti, ma viene concepita classicamente, o potremmo dire anche sul modello del Medioevo cristiano, quindi con una partecipazione dei cittadini attraverso i corpi sociali intermedi, quindi non attraverso il voto una volta ogni cinque anni, ma attraverso una partecipazione organica, potremmo dire così ordinaria, quotidiana, alla vita pubblica, attraverso però la mediazione dei corpi sociali intermedi, in modo particolare delle corporazioni. Quindi il distributismo richiama, potremmo dire, la necessità, che era già stata espressa da Leone XIII e da Pio XI, delle corporazioni, cioè di una organizzazione interclassista del mondo del lavoro. Il mondo del lavoro non è diviso tra capitalisti e proletari, ma attraverso una organica rappresentanza del mondo del lavoro che tenga insieme i titolari, i proprietari dell'azienda, della bottega, del negozio, eccetera, e i loro eventuali dipendenti, quindi una sorta di, come era nel Medioevo d'altronde, quindi una rappresentanza gerarchicamente ordinata del mondo del lavoro, secondo le diverse categorie. E questo ovviamente non solo per una rappresentanza in sede politica, ma anche per una autonomia del mondo del lavoro. Le corporazioni, cioè, dovrebbero essere quelle realtà che autogovernano il proprio settore, quindi tutto quello che è la regolamentazione delle attività lavorative, delle norme di produzione, tutto quello che è il mondo, diciamo, economico e del lavoro, dovrebbe essere regolato dalle corporazioni, cioè dalle categorie professionali stesse. Ovviamente questo concetto riscrive completamente il disegno sociale ed economico della nostra civiltà. E si richiama chiaramente al mondo medievale, quindi il distributismo inglese ha le proprie radici nella dottrina sociale della Chiesa, in modo particolare nel Magistero di Leone XIII, ma si richiama idealmente al mondo premoderno, al mondo medievale, a quel mondo cioè legato agli usi e ai costumi, ad un modello di vita basato sui corpi sociali intermedi, sulla famiglia, sulle comunità locali. Ecco, un altro tratto caratteristico del distributismo è quello di sottolineare molto l'importanza della comunità, cioè l'ambiente sociale locale, la comunità di appartenenza, la dimensione potremmo dire così naturale della vita sociale degli uomini. Ecco, tutti questi aspetti sono stati sviluppati a partire dall'insegnamento di Leone XIII, e sono stati sviluppati da autori, dicevamo, come Chesterton, Bello, Patrick McNabb, questi sono un po' i fondatori del distributismo. Ma la cosa bella del distributismo è che non è morto cento anni fa, ma ha avuto una sua vita, un suo, potremmo dire, sviluppo, tant'è che anche oggi, nel 2024, ci sono filosofi distributisti, giuristi distributisti, economisti distributisti, eccetera, eccetera. Quindi c'è una vivacità del pensiero, della dottrina distributista, anche oggi. In Italia meno, purtroppo, c'è il lodevole impegno del movimento distributista italiano, presieduto dal dottor Mazzariol, ma, diciamo, si tratta ancora di una realtà molto piccola. Ci sono dei paesi in cui la realtà distributista è più sviluppata, si pensi appunto solo l'Inghilterra dove è nato, ma in modo particolare gli Stati Uniti d'America, dove ci sono delle vere e proprie, diciamo, organizzazioni distributiste, una certa vivacità di attività, eccetera. Ma anche la Spagna, anche in Spagna il distributismo è maggiormente vivace, ecco. Quindi esiste una presenza distributista, una vivacità, anche di proposta filosofica, giuridica, economica, eccetera, e anche di realizzazioni pratiche, soprattutto negli Stati Uniti e in Spagna, ma non solo, ecco. Quindi è particolarmente interessante che anche in Italia il movimento distributista italiano voglia organizzare a Bergamo, quindi in una città centrale, diciamo, del nord Italia, una città particolarmente legata anche all'industria, Bergamo è una città fortemente legata all'industria, ecco, il primo festival distributista italiano si svolgerà sabato 21 settembre e domenica 22 settembre. Interverranno il dottor Mazzariol, presidente del movimento distributista, il dottor Paolo Gulisiano, medico, saggista e socio fondatore del movimento, e il professor John McDyle, teologo dell'Università di Dallas, Stati Uniti ed America, vedete, quindi il legame con gli Stati Uniti ed America nel caso del distributismo è forte, perché negli Stati Uniti ed America c'è una vivace presenza distributista, quindi il professor McDyle, teologo dell'Università di Dallas, Stati Uniti, poi interverrò anch'io, con una mia relazione sulle corporazioni, poi ci sarà il dottor Martinoli sulla questione monetaria, e poi ci sarà anche la Santa Messa, la celebrazione della Santa Messa domenica, e poi anche tutti i momenti conviviali, pranzi, cene, eccetera. Quindi il mio invito, per chi abita in Lombardia, o anche per chi abita più distante, ma sicuramente per chi abita in Lombardia, è a non perdere questa importante iniziativa, a partecipare al festival, e anche poi a documentarsi, a studiare appunto questo interessante pensiero cattolico sociale, che è appunto il distributismo. Faccio riferimento a due libri in particolare, entrambi di Ilaire Bello, uno è lo stato servile, e l'altro è distributismo, la via d'uscita dallo stato servile, con la prefazione del nostro direttore, il professor Stefano Fontana. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.